Elena e Peppe faccio io perché lui non lo fa poi a Maurizio Ascerbo Riccardo Petrella Paolo Cacciari pausa per pranzo che ci aspettano e poi tutti gli altri nel pomeriggio compreso io che sarò l'ultimo prima di chiudere la porta Sì sì spieghiamo tutto spieghiamo tutto spieghiamo perché siamo in due vabbè io sono Elena Mazzoni per chi non mi conosce e faccio parte del del direttivo di Transform Italia e accanto a me Giuseppe De Marzo come portavoce della DT dei numeri pari ma anche direttore scientifico della scuola AGEA abbiamo deciso di fare questo intervento insieme ma soprattutto anche per rompere un po' la classica modalità che c'è sempre per cui ognuno viene racconta se stesso dice quello che pensa spiega fa lo spiegone di come gli altri si dovrebbero comportare e noi vogliamo provare a fare una cosa diversa nel senso che più che spiegare agli altri quello che dovrebbero fare vogliamo provare a restituire quella che è l'esperienza di un anno e mezzo che Transform Italia ha fatto dentro la rete dei numeri pari e quindi come prima cosa vorrei proprio chiedere a Giuseppe di dirci per chi non lo sa cos'è la realtà della rete dei numeri pari e che cosa che cosa rappresenta e poi andiamo sulle esperienze che abbiamo fatto insieme il lavoro che abbiamo fatto e che faremo ancora intanto grazie per il vostro invito brevissimamente per un minuto comunque potete eventualmente digitare numeripari.org su internet e cercare la rete dei numeri pari nasce dalla campagna lanciata da Libere Gruppa vabbè le miserie ladere a undici anni e mezzo fa circa quando nel nostro paese iniziarono a saltare anche i numeri della povertà vi ricorderete quando è iniziato insomma con l'austerità e quindi Ciotti ci chiese di provare a costruire una campagna sui temi del reddito del salario quindi magari qualcuno si ricorda ma dopo cinque anni di tante pacche sulle spalle dalla politica e quindi una campagna di successo non avevamo ottenuto nulla e quindi decidemmo di ritornare sul campo cioè sul campo vuol dire dico campo per non dire il basso perché è una parola che è stata troppo utilizzata e cioè di provare a mettere insieme quello che è appunto la rete dei numeri pari tanti soggetti sociali di varia taglia e misura per cui Libera Nazionale vale quanto il Comitato di Mamme della Romanina il coordinamento di insegnanti di Torbella Monaca vale quanto Lega Coop Sociali quindi di mischiare tutte le realtà che condividevano come priorità sconfiggere diseguaglianze e mafie che condividevano sette obiettivi che abbiamo lanciato proprio in questa stanza con tanta gente che arrivava per strada un anno e mezzo fa c'è l'agenda sociale firmata da 700 realtà quindi alcune proposte concrete costruite da realtà come transform e poi abbiamo deciso che questo anche questo non bastava per impastarci di realtà come tu ricordavi e quindi abbiamo deciso di sporcarci le mani perché se poi le scarpe sono troppo pulite non si capisce e siamo una rete che fa mutualismo penso che siete tra i nostri maestri su questo quindi non devo spiegare a voi la differenza fra controsolidarietà e volontariato e siamo una rete che è stata studiata quindi vi invito perché questo invece è materiale scientifico che può essere utile a Transform ringraziamo Elena per questo lavoro poi di reciprocità il Gran Sasso Scient Institute quindi l'università l'accademia più importante di fisica d'Europa ha deciso quattro anni fa di studiare con un progetto di ricerca la rete dei numeri pari per dire ma voi come cacchio avete fatto durante la pandemia durante questa situazione di crisi a garantire servizi e sostegno per più di 200.000 persone in Italia da Marsala a Fiuli e quindi ha estratto a sorte 112 realtà su 700 della rete su quattro assi di mutualismo cibo, servizi robe di questo tipo potete scaricare la ricerca perché è utile è utile perché c'è una geografia della speranza in Italia fatta di donne e uomini che magari non hanno lauree che non hanno testere di partito non sanno magari manco di essere di sinistra o ecologisti un po' come l'ecologismo dei poveri ma sono impegnati contro diseguaglianze e mafie fanno attività di mutualismo sul territorio e quindi costruiscono una maggiore fraternità nell'azione di solidarietà continua ecco questo è quello che fa la rete l'ultima campagna rilevante ve la ricorderete che ci avete aiutato e quindi un grazie di cuore è stata quella che lanciamo insieme ai comitati quella contro l'autonomia differenziata ovviamente abbiamo il coraggio di fare quindi questo è il lavoro che cerchiamo di fare grazie a realtà come transform sì una realtà come transform che insomma come sappiamo bene come abbiamo visto anche questa mattina è una fondazione è un centro studi è un centro di ricerca no? quindi sembra un po' originale che un centro studi è un centro di ricerca una fondazione sì della sinistra europea quindi comunque che fa politica sia dentro una rete una rete del genere in realtà da questa interazione tra la rete dei numeri pari e transform sono state tante esperienze che alcune quelle che Giuseppe ricordava prima abbiamo attraversato in questo anno e mezzo veramente tante realtà ma anche tante vertenze territoriali perché comunque io faccio parte di transform ma rappresento anche i comitati che lottano contro l'inceneritore di Roma nella provincia dei castelli romani e quindi anche in questo la rete dei numeri pari non ci ha mai fatto mancare il sostegno anche transform che comunque ha sempre anche diffuso quello che noi facciamo quindi quello che vorrei chiedere a Giuseppe oggi magari proprio nel suo intervento di dirci qual è il ruolo di una fondazione di un centro di ricerca cioè c'è ancora bisogno di studiare ancora di formarci ancora cioè quante realtà quanti dirigenti quante persone in grado di restituire quella che è la vera politica la rete dei numeri pari in questi anni ha incontrato e dove la incontrate? Sicuramente c'è bisogno di studiare per cui la ricerca e l'azione sono due cose che vanno collegate questa idea per cui bisogna chi fa non pensa e chi pensa non fa insomma mettiamocela via si può fare e pensare pensare e fare senza dire cosa deve venire prima quindi il tema è che un attivista che sta a Marsala noi lavoriamo con le persone impoverite e lavoriamo con un ibrido di relazioni sociali perché tu puoi trovare dall'operatore del sociale che quindi ha una sua professionalità uno psicoterapeuta all'attivista del comitato che ha altre motivazioni quindi per dirvi che nessuno di queste figure che abbiamo non a caso citato su quello che riguarda il contrasto alla povertà quindi i servizi sociali il mutualismo nessuna di queste figure ha il tempo per fare ricerca non ce l'ha e anzi vi dico la verità se non avesse fatto il Gran Sasso Scientist Institute se non avesse investito immaginate centomila euro per pagare quattro ricercatrici che dovevano andare sul campo per tre anni e fare e come facevamo noi cioè non lo posso fare nemmeno io da responsabile nazionale di Libera per le politiche sociali forse ho il tempo di scrivere un articolo a settimana per l'Espresso ed è un miracolo quindi non si sistematizza niente ed è un dramma penso soprattutto per le forze della sinistra perché rischiamo di riprodurre lo stesso errore banalmente io da ecologista vedo una confusione spaventosa che è peggiore rispetto agli anni che con Patrizia Sentinelli lavoravamo sul tema della cooperazione internazionale e siamo stati tra i primi a portare i concetti di giustizia ambientale sembra che si vada indietro ci ripropongono lo sviluppo sostenibile quindi siamo dentro una forma di ambientalismo subalterno spudorata e accettata quindi avremmo bisogno anzi di centri di ricerca che legittimano anche perché la cosa pazzesca per me da uomo di sinistra ups lo devo dire perché uno se lo deve dire ciò che è nella vita è che sia il Papa a dover invitare la rete così spoileriamo un fatto che troverete sui giornali a un primo incontro storico dei movimenti popolari con il Papa e siamo noi a dover essere legittimati su quello che facciamo in termini di ecologia sociale proprio perché non ci sono più centri di ricerca come Transform non ci sono più partiti che evidentemente investono sulla necessità di sistematizzare nuove idee legate alle pratiche quindi un po' come di cenere che poi ci fate lo spiegone che non parte dalla prassi ma porca miseria dovremmo essere tutti tutti i gramsciani allora la prassi guida la teoria ecco nel nostro piccolo la geografia della speranza che esprime la rete di cui Transform è parte perché avete voluto l'umiltà di starci ha tirato fuori anche delle teorie dalla prassi interessanti ad esempio noi sappiamo che contrastare la mafia sei più bravo tu che non c'hai un logo importante perché il welfare sostitutivo mafioso sui territori si contrasta di più facendo un comitato che fa accoglienza o fa un laboratorio per i migranti questo ci dice la ricerca sono cose interessanti anche sull'ecologia noi abbiamo sistematizzato delle cose ma non abbiamo luoghi di ricerca che possano sistematizzarli quindi questo ci manca e insomma noi siamo felici di andare dal Papa però siamo una rete laica qui siete nella casa delle donne le donne sono tra le fondatrici la rete dei numeri pari quindi sarebbe più utile avere più realtà come Transform o quantomeno un interesse maggiore delle forze politiche di sinistra per quello che dal basso dai territori è emerso perché abbiamo visto che questa azione si è interrotta grazie Giuseppe e grazie a voi per l'attenzione e anche insomma ci perdonerete questo modo d'alternativo che abbiamo voluto portare e noi ci auguriamo come Transform siamo sicuri che il lavoro che abbiamo fatto dentro la rete dei numeri pari che veramente ci ha arricchito tanto l'abbiamo fatto con umiltà ha ragione Giuseppe ha fatto bene utilizzare questo termine perché ci siamo sempre posti non come quelli che sapevano tutto ma come quelli che avevano molto da imparare anche questa esperienza che andremo a fare da assolutamente laici e laiche con i movimenti popolari a Verona siamo veramente contenti che Transform come realtà appunto promotrice della rete dei numeri pari abbia questa opportunità e siamo insomma contenti oggi di restituirvela perché siete comunque tutte e tutti parte di Transform e quindi nel momento in cui noi andremo in quel luogo particolare speciale insomma ci sarà comunque parte di Transform con noi tra l'altro alcuni compagni compagni di Transform stanno proprio anche dentro i tavoli che sono stati avviati verso questo percorso dell'arena di pace di Verona 20-24 continueremo a tenervi informati come diceva Giuseppe ha spoilerato però appena usciranno le cose ufficiali Transform con la sua potente newsletter e il suo sito arriverà a tutte e tutti voi grazie ancora buon proseguimento grazie a tutti grazie a tutti